Sapore di sale Arriva Ciclope, come annunciato nei giorni scorsi, l'anticiclone conquista oggi l'Italia, portando l'estate sul bel paese. Tanto sole su tutte le regioni con le temperature in lento ma graduale aumento. Secondo le previsioni, il caldo di Ciclope aumenterà nei prossimi giorni e sarà una costante per almeno 7 giorni, portando tanto sole su tutte le regioni e temperature molto calde, sia al nord che al sud. Con i possibili 32-34 gradi su alcune città. Antonio Sanò, direttore del sito meteo.it, sottolinea che l'anticiclone africano dominerà la scena italiana per parecchi giorni, almeno fino al 13 giugno, con temperature veramente roventi, ma soprattutto, avverte l'esperto, inizierà a farsi sentire l'afa. Le ultime elaborazioni prevedono poi un break temporalesco e una diminuzione del calore per alcuni giorni. Si tratterà però di una fase temporanea perché un nuovo anticiclone, Caronte, ci traghetterà verso un'estate veramente bollente.